Diminuiscono i reati commessi, ma raddoppia il numero degli omicidi volontari. Sono queste le tendenze che hanno caratterizzato il 2019 del capoluogo Dauno. I dati arrivano al termine della consueta conferenza stampa di fine anno dell'Arma dei Carabinieri, impegnati quotidianamente nell'attività di contrasto al fianco sia della Procura di Foggia che della direzione distrettuale antimafia. Diverse le operazioni messe a segno come Nemesi, Neve di Marzo, Gold Rush, Start and Stop, che saranno da base per nuove sfide da affrontare, però assieme alla società civile per un autentico riscatto sociale. Passando ai numeri, i furti registrati sono stati 8.346, le rapine 173, mentre le estorsioni 81. Il calo si nota soprattutto grazie all'aumento dei servizi repressivi e il numero delle persone e dei mezzi controllati. Sono state arrestate 1.313 persone, denunciate oltre 3.000 e in complesso sono stati sequestrati 117 kg di stupefacenti, 56 pistole, 64 fucili e oltre 7.000 munizioni, oltre che 526 kg di esplosivo. Accanto alle attività repressive e preventive, l'Arma dei Carabinieri sta stringendo nuove collaborazioni, soprattutto con il mondo della scuola. Il 2019 è stato un anno impegnativo. Ci sono state importanti operazioni di servizio, sia contro la criminalità organizzata che quella diffusa. Anziché appelli, mi permetto di tracciare la linea per l'anno 21. Oltre a cercare di non disperdere il bagaglio operativo importante accumulato in questi anni, con le importanti operazioni di servizio effettuate, cercheremo di focalizzare l'attenzione anche su fenomeni di attrazione della parte sana della società e della scuola in percorsi di legalità diffusa. Cercheremo ad esempio di coinvolgere i ragazzi, gli studenti, in percorsi di legalità per fare in modo che la legalità venga percepita come un problema di tutti, corale, non solo delle forze di pulizia. Anziché appelli alla cittadinanza, vorrei rappresentare che i carabinieri ci sono sul territorio, sono fruibili e cercheranno comunque di essere presenti per far capire l'importante attività che facciamo e anche far percepire la bontà dei risultati che stiamo ottenendo.